Giorni impegnativi per la polizia di Fano che nel corso di alcuni controlli straordinari coordinati dal dirigente del commissariato Stefano Seretti ha rintracciato ed arrestato un uomo sessantenne in quanto destinatario di un ordine di esecuzione della pena 10 anni di reclusione a seguito di condanna definitiva per la partecipazione ad associazione a delinquere specializzata in spedizioni illecite trasnazionali di prodotti energetici combustibili provenienti dall'Europa dell'Est. L'uomo inoltre si era reso responsabile di omicidio colposo per violazione del codice della strada e fuga a seguito di incidente stradale verificatosi durante una delle spedizioni nella provincia di Firenze nel 2012. Sempre negli scorsi giorni gli agenti hanno rintracciato nella zona di San Lazzaro un 19enne di nazionalità moldava residente a Fano già noto alle forze di polizia trovato in possesso di un cellulare risultato rubato da un'auto nella notte stessa. Ulteriori indagini hanno permesso di denunciare il giovane anche per i reati di furto aggravato in quanto autore di alcuni colpi verificatisi in alcuni esercizi commerciali a Fano nello scorso mese di agosto. A Sant'Orso invece è stata rintracciata e denunciata una donna di origine nomade che è risultata coinvolta in un furto avvenuto la scorsa settimana presso un'orificeria di macerata dove sono stati sottratti gioielli per un importo di circa 3.000 euro. La donna si è poi rivelata responsabile di altri furti nell'ultimo periodo avvenuti tra Marche ed Umbria. Nel corso di controlli svolti presso la zona del porto di Fano inoltre gli agenti dopo aver notato dei movimenti sospetti all'interno di un bar situato in via della Marina anche in orari di chiusura al pubblico hanno scoperto che due soggetti con la complicità della titolare dell'esercizio e del suo convivente sottraevano in modo sistematico il denaro contenuto nelle slot machine e nelle macchine cambiavalute simulando dei furtico scasso e rubando oltre 15.000 euro. Controllati dalla polizia anche alcuni casolari abbandonati della città. All'interno di uno di questi nei pressi della strada statale adriatica sud sono stati rintracciati due stranieri originari dell'est Europa che sono stati denunciati per invasione di edifici e danneggiamento aggravato. Nell'immobile sono state rinvenute tre biciclette probabilmente provento di furti e delle quali si stanno cercando i proprietari. Infine grazie alle indagini svolte dai militari a seguito di un furto avvenuto in una farmacia del centro dove sono stati rubati cosmetici per un valore di circa 400 euro è stata individuata la colpevole. La donna straniera è stata denunciata e si sarebbe servita della figlia di 10 anni per portare a termine il furto.